Grazie a tutti. Il pronostico Stefano Busardo del team Ratenbike, numero 223, vince. Il pronostico Cristian Fois, la teglia di Costa d'Argento, numero 162, qui. Lontolini Claudio, numero 56, bravissimo. Quarta posizione per il numero 160, bravissimo Luigi. Quest'anno ritrovato un ottimo periodo di forma, bravissimo. Grande Franco Sbordone, numero 140, corso. E grande Bruno, Bruno Dragoni, numero 63, del Palma, numero 237, bravissimo Massimo. 125, l'altra reta del team Ratenbike, in ottima forma, come il numero 44 è Stefano Garofani, dell'esercito. In un crescendo di me, in classifica, le due donne sono separate da un punto solo. Sto arrivando Fabio Santilli senza numero, numero 119, ha il sedi qua sotto, mentre Antonello Ottobrino, con il numero 25, vince davanti alla numero 170. Vediamo chi è, è Umagra. Terza posizione, numero 168, Atletica Costa d'Argento, donna Abenna, numero 55, lei è Marcella Municchi, dell'Atletica Costa d'Argento, davanti al numero 68. Si tratta il numero 42, Mario Fabrucci, track and film master, grossetto. La signora, numero 114, Alessandro, hai dovuto schivare. Numero 112, ASD Quarto Stormo, che viene detto, numero 173, anche lei, grande prova in Maratona. E la Municchi, numero 127, grandissima, non si risparmia mai, ma la Mazzoli, scusate. Davanti al numero 171, Simone Vordigoni, dell'Avisca Senovo Magra, e Cristina Gamberi, numero 232, Team Marathon Bike. Lini numero 137, oggi Paolo ha tirato un po' l'emba in barca, è arrivato un po' più lento del solito, mentre ottima fe, Buonadonna, Alessio Buonadonna all'arrivo, conclude anche lui quest'annata. Mentre con il 229, è appena arrivato Gabriele Reali, dell'Avis Perugia, davanti al numero 46, con la casacca del Costa d'Argento. 130, vediamo Sergio Consuoli, del Team Marathon Bike. Niente, mentre con il numero 120, Simone Piazzi, dell'Atletica Follonica. 4, Oriano Chelini, Atletica Follonica. Numero 167, Team Marathon Bike, Antonio Scaglione, davanti a Nicola Picciocchi, che ha annunciato il proprio ritiro dalle gare. Ricordo la Maremmana, mentre intanto arriva Duilio e Danilo Maranelli. E davanti al 123, Paolo Giannini, ricordo il primo di gennaio, la Maremmana. 239, Simone Cucchi. Maremmana 135, Federico Martelli, dell'Avis Piombino, davanti al ragazzo del Team Marathon Bike. Giacomo Ventura, il ritrovo è alle 10 e un quarto, mentre il 166, con la maglia del Re. Davanti al 156, Envio Cimilini, dell'Atletica Follonica del Gento, un altro atleta del Team Marathon Bike. Si tratta di Fabio Coracci, con il numero 230. Arriva Alessio Martinelli, dell'Atletica San Marco. 155. Il grande Fausto Garosi, davanti ad Arcangelo Gian Laurito, con il 141. Bene, il primo Marathon Bike, tanti sono gli atleti oggi, 111. Mentre con il 132 della Svikat, Marco Vinciarelli, appena arrivato davanti a Riccardo Turi, con il 134. Umberto Monteforte, dall'ES di Quarto Stormo, sta tagliando il traguardo. 153. Non lo spavano, bravo, spavano. Antonio Baranzo, realizzato dei presidi, davanti al 115 della Track & Fismat, Track & Marathon Bike, Riccardo Morgiani. Sergio Strino, un grande Sergio, numero 27. Bravissimo, Sergio, ritorna alle gare. Riccardo Picciocchi, mentre sta arrivando il 176. Si tratta, vediamo un po', Simone Monadici, dell'ES di Quarto Stormo, davanti all'amico della Svikat. E alla ragazza con il 205, anche lui del Quarto Stormo, tanti oggi ragazzi. Matteo Scopavella, 63, anche lui dell'Avis Casse Nuovo Magra. Come la ragazza, 64, Mauro De Fabrizis, grande Mauro. Giro della Laguna, 25 aprile, mentre 240, 241, Andrea. Grande Fornisano, numero 111. E l'altro grande personaggio, 151, Renatone Goretti, anche lui, Track. Salvatore, arriva, 25 caprile. Accompagnato da Zulema e da Katia. Ratton Bike, Paolo Bischering, bravissimo Paolo, davanti a Silvana Medelletti, bravissima. E altri due amici, numero 227, altro fastidio. 161, Orlando Picchianti, l'ederno Orlando Picchianti, bravissimo. 67, Armando Pittiglio. C'è qualcuno che ha partecipato anche alla camminata. Azzelio Fani, grande Azzelio, numero 182 del DLF, che precede il nostro Salvatore Mennella, il ristoratore di quelli che corrono sulle muta. Con il numero 99, Massimiliano Guerrini, intanto, del Team Marathon Bike. 6, Marcello Pancrazzi, del Team Marathon Bike Follonica, davanti al numero 124, Marco Franzoni, del Siena Runner. Vediamo, è Antonella Mataloni, del Reale Stato dei Presi. Passa Tiziana, grande Tiziana! 235, Sauro che ogni tanto viene a correre dalle nostre parti, che precede, anzi due atletoni, qua gente con le gambe di ferro. Mano nella mano, con Cristina Cipriani, del Team Marathon Bike. Numero 190, Alessandro Biagiotti, del Team Marathon Bike, davanti a Silvio Angelini, anche lui Team Marathon Bike. Altri atleti, sempre della società che organizza, Massimo Bianchi. Mentre abbiamo... Numero 187, Roberto Vanni, anche lui del Team Marathon Bike. Oh, Leonardo, grande Leonardo! L'avevamo dato... No, 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 no.